Buongiorno, oggi parliamo della scelta della testa del treppiedi. Vediamo i modelli principali e cerchiamo di dare un'infarinatura generale quantomeno di quali sono le teste e le tipologie principali e qualche indicazione su come sceglierla e anche come funzionano. Allora, partiamo che le teste del treppiedi sono di tre, di quattro tipologie. Tre sono più note, una è più specialistica. Poi ci sono delle teste speciali e andiamo per gradi. Partiamo da questa che è montata qui. Questa tipologia di testa si chiama testa a tre vie, è stata la prima testa che ho avuto, non questa qui però di un'altra marca. Ora mi avvicino... ok, così dovreste... che bellezza lo schermo ribaltabile. Allora, perché si chiama testa a tre vie? Si chiama testa a tre vie perché ha tre manopole, una, due e tre, che permettono di controllare la testa sui tre assi in maniera indipendente. Ogni manopola blocca un movimento, quindi in questo caso la testa, avendo allentato solo la manopola della rotazione sul piano orizzontale, può girare solo in questo modo. Sbloccando questa fa questo movimento laterale, ora c'è anche l'altra sbloccata, più che altro per fotografare quindi in verticale, e bloccando l'altra c'è il movimento di tilt avanti e indietro, poi a seconda di come si posiziona. Ognuno di queste leve ha per questo tipo di testa una frizione che regola, muovendo appunto quest'altra ghiera, regola quanto il movimento di... deve essere fluido, insomma. Quando si usa la testa a tre movimenti? Allora, la testa a tre movimenti va bene praticamente per tutti i generi fotografici. Allontaniamo un po'... ok. La testa a tre movimenti va bene per tutti i generi fotografici. È una testa che richiede, viene usata principalmente studio. E ho per fare, diciamo, una fotografia più calma, perché non è immediata, avendo tutti e tre gli assi indipendenti, quindi questa è la sua forza di avere movimenti più precisi e più indipendenti su ogni singolo asse, ma allo stesso tempo rallenta il suo uso. Andiamo a montare un'altra testa. Se magari qui lo blocco riesco a svitarla... ok. Ora io sto svitando così agevolmente la testa, perché almeno manfrotto qui sotto ha una vite di serraggio. Ora l'ho allentata, se no ogni volta dovevo rovesciare il cavalletto e andare a smontarla. Seconda testa che vediamo oggi. Questa è una testa a sfera. Questa è stata il secondo o terzo tipo di testa che ho avuto. Non era questa, era una testa molto più grossa, perché era di quando avevo la reflex. Allora, questa testa qui, questa è quella che viene venduta con il manfrotto in kit, con il manfrotto 190. È un tipo di testa che non vi consiglio, però, insomma, ve li faccio vedere. Per esemplificare va bene. Allora, anche questa testa ha le leve per allentarle, insomma. In questo caso non c'è una leva separata per regolare il movimento sull'asse orizzontale. Quindi, quando sono sbloccate le leve, è sbloccato tutto. Alcune teste a sfera, salendo di livello, hanno anche una leva a parte che regola il movimento sull'asse orizzontale. Allora, cosa c'è da dire? Queste teste sono più rapide, perché avendo questa sfera, questo giunto, che permette il movimento su tutte le dimensioni, non hanno bisogno di essere sbloccate sui tre assi, quindi sono teste più rapide. Sono meno precise, perché ovviamente, avendo tutti gli assi svincolati, quando la sfera è sbloccata, non posso regolare il movimento su ogni singolo asse, però, appunto, sono più rapide. C'è una variante di queste teste, chiamate anche teste a pistola, perché invece delle leve hanno una sorta di leva con un grilletto che, quando viene premuta, sblocca questo movimento e le rende ancora più veloci. A me non piacciono particolarmente, però vanno abbastanza. Va bene. L'altra chiave, come questa, aveva molta più portata, quindi una sfera più grossa, e niente, e aveva anche il movimento sempre della Manfrotto sull'asse orizzontale svincolato dalla sfera. Cosa c'è da dire? Ovviamente che questo vale per tutte le teste. Più una testa è robusta, o più, comunque, a caratteristiche particolari, più peso può portare. Non è che questa testa può portare chissà quanti chili, ci sono teste più performanti che hanno più peso, sono più ingombranti, più costose, eccetera. L'altra cosa è che nelle teste sarebbe buona norma comprarne una con sgancio rapido. Cosa vuol dire? Lo sgancio rapido, vedete questa piastrina qui sopra? Questa si toglie la sicura, si tira indietro la leva, e questa piastrina viene avvitata sul fondello della fotocamera. Se avete più fotocamere, potete mettere una piastrina per ogni fotocamera, e quindi scambiate velocemente la fotocamera senza dover smontare tutto. Le teste non dotate di queste vanno avvitate sotto la fotocamera, non sono pratiche. Ora, io non ho mai avuto teste senza sgancio rapido, però ci sono. Ok. E quindi abbiamo visto anche la seconda testa. Generi fotografici per cui adatta? Beh, direi più o meno anche questa, più o meno tutti nel senso, però è molto meno precisa. Quindi, mentre quella ha tre vie per fare, lavorare in studio, per architettura, per paesaggio, va sempre bene. Questa, per esempio, per fare architettura è meno adatta, è meno precisa, però i generi che si possono fare con quella sfera sono praticamente gli stessi generi che si fanno con quelle a tre vie. Questa è più veloce, meno precisa. L'altra è più lenta e più precisa. Della testa a tre vie c'è una variante che è una testa speciale ed è detta testa a cremalliera. È sempre una testa a tre vie che però ha su ogni leva una cremalliera, quindi i movimenti sono molto più precisi, soprattutto per macrofotografia e architettura, però è molto più lenta e soprattutto le teste a cremalliera sono teste specifiche e molto costose. Vediamo la prossima delle quattro tipologie, la terza delle quattro tipologie, invece la quarta ve la racconto e basta perché è un tipo di testa che non uso. Testa fluida. Testa fluida, principalmente per fare video. A volte la uso anche per fotografia ma non è molto pratica, la uso quando o mi voglio portare una testa sola oppure perché voglio lavorare solo su due piani, perché questa testa ha movimento di tilt e movimento di panoramica, quindi non si può inclinare lateralmente perché insomma in video si lavora con la fotocamera in bolla e non si deve inclinare, tanto che alcune teste hanno anche, sono dotate sulla colonna di una libella invece di una piastra livellante, insomma non andiamo troppo nel dettaglio. Anche questa testa ha lo stesso sgancio rapido, questa è della Manfrotto al suo sgancio, è il solito delle altre, quindi è intercambiabile. E niente, di solito sono dotate, ora si è allentata, perché sono dotate di una leva, sempre una frizione per decidere quanto questo movimento di tilt e di rotazione deve essere, di pan, deve essere fluido e queste appunto si usano principalmente per il video. La quarta tipologia di testa, che non vi faccio vedere perché non le uso, sono le cosiddette teste bilanciere o teste gimbal. Sono teste che si usano, hanno quella forma con una sorta di braccio a mezza U, o a U a seconda, ci sono poi alcune varianti, e servono principalmente per fotografia sportiva con i supertele. Anche quelle sono teste particolari, non particolari forse come quella cremagliera però per un uso molto più specialistico. Così come le teste panoramiche, altra tipologia di teste che non vi mostro, perché sono teste fondamentalmente un insieme di slitte micrometriche, che servono poi per scattare tutta la serie foto e ricomporre in software di post-produzione per fare panoramiche a 360 gradi. Bene, cos'altro vi devo dire? Che appunto salendo di prezzo ogni tipologia di testa può avere dei meccanismi più o meno particolari rispetto al modello base. Testa sfera molto veloce da usare, comode, buone più o meno per tutti i generi, non tutte hanno il movimento separato della rotazione sul piano orizzontale. Io consiglio di averla appunto, quella testa lì è proprio una testa kit ma io non la prenderei, non la riprenderei quantomeno, me l'ho presa. Teste a tre vie, anche queste praticamente per tutti i generi, eccetto appunto quelli più specialistici, sono teste più precise ma più lente da manovrare, movimenti separati su ogni asse. Teste a cremagliera sono una variante delle teste a tre vie, sono sempre teste a tre vie ma che hanno una cremagliera di precisione per posizionare appunto sempre sui singoli assi il movimento e la fotocamera in modo estremamente preciso, principalmente per macro e per architettura. Teste fluide per il video, movimento solo su due assi, hanno il tilt, il basso e verso l'alto, e la panoramica sull'asse di rotazione orizzontale. In video non si usano, in video il treppiede deve essere a livello, la testa deve essere a livello, a volte c'è un meccanismo o una piastra livellante che permette di tenere la testa sempre in bolla. Teste per naturalistica sono gimbal o a bilanciere e niente, mi fermerei qua, si potrebbe andare avanti oltre perché ci sono... Ma fermiamoci qui per questo video, spero vi sia piaciuto, like, iscrivetevi, attivate la campanella e ci vediamo al prossimo video. Ciao!